Buonasera e ben trovati alla seconda edizione di G News. Tre condanne per l'aggressione a Lucia Annibali, sfigurata con l'acido. Il giudice ha inflitto 20 anni a Luca Varani, avvocato, collega ed ex fidanzato di Lucia, il mandante del terribile Blitz. 16 anni ciascuno ai due albanesi esecutori dell'aggressione. La sentenza è stata accolta da applausi. Ed ora andiamo a Teramo. È morto ieri pomeriggio appena nato al termine di una gravidanza regolare. Ora i genitori vogliono capire perché il loro bambino non c'è più. Per questo hanno presentato un'esposta alla polizia che ha aperto l'inchiesta della procura. Il sostituto procuratore Bruno Auriemma ha iscritto quattro nomi nel registro degli indagati. Si tratta di due medici e due ostretriche dell'ospedale Mazzini di Teramo. Blitz antidroga della squadra mobile di Ascoli Piceno. Cinque gli arrestati, tra cui un ristoratore di colonnella e un marittimo di San Benedetto. Ma ascoltiamo i particolari nel servizio. Grandi quantità di cocaina venivano spacciate lungo la costa, tra San Benedetto del Tronto, Giulianova e Roseto, da un'organizzazione criminale smantellata dalla squadra mobile di Ascoli Piceno e da quella di Teramo. Cinque gli arresti. In carcere sono finiti un ristoratore di colonnella, un marittimo di San Benedetto, due albanesi e una romena ai domiciliari. La droga arrivava da Napoli e dalla Spagna via Fiumicino. Le indagini, iniziate quasi un anno fa, condotte con intercettazioni telefoniche, pedinamenti e vari sequestri di sostanze stupefacenti, hanno dimostrato come la droga, proveniente prevalentemente dalla Spagna, dopo essere arrivata a Roma, veniva inviata con appositi corrieri, presso la costa adriatica, dove veniva distribuita principalmente nella riviera di San Benedetto del Tronto e nella confinante provincia Teramana, per essere venduta soprattutto al cosiddetto Popolo della Notte. Gli indagati, per cercare di depistare eventuali intercettazioni, conversavano al telefono, parlando di DVD, caffè e inviti a cena, espediente che non ha impedito agli investigatori di inchiodarli alle loro responsabilità, accertando che quel linguaggio convenzionale si riferiva esclusivamente alla cessione di droga. Alle prime luci dell'alba, gli uomini della squadra mobile di Ascoli hanno dato esecuzione dei provvedimenti cautelari, firmati dal GIP Giuliana Filippello, su richiesta del sostituto procuratore Cinzia Piccioni. Ed ancora con la cronaca, dieci ordinanze di custodia cautelare, sequestrato oltre un chilo di droga, tre regioni interessate, Molise, Abruzzo e Marche. È il bilancio di un'operazione antidroga condotta dai carabinieri del nucleo investigativo di Campobasso agli ordini del capitano Nicola Gismondi, conclusa alle prime ore di questa mattina. Le indagini erano partite circa un anno fa. Evade dai domiciliari per spacciare, viene sorpreso dalla polizia e fugge tra la folla del centro e viene preso. Arresto rocambolesco ieri sera ad Ancona. Verso le 19 in pieno centro, un cittadino nigeriano agli arresti domiciliari ha abbandonato l'abitazione nella quale deve scontare la misura cautelare. È stato avvistato dai poliziotti della squadra mobile mentre si muoveva con circospezione. Appena intimato l'alt, l'extracomunitario si è dato alla fuga, urtando passanti e scavalcando auto in sosta. Lo sprint è durato soltanto una manciata di minuti prima che i poliziotti della sezione antidroga lo bloccassero ammanettandolo. La perquisizione sul posto ha permesso di scovare 20 grammi di cocaina nascosti dentro un ovolo che il nigeriano nascondeva nelle parti intime. Lo stupefacente era pronto ad essere piazzato sul mercato di Ancona. Altra droga è stata trovata nell'abitazione. E un giovane ascolano di 26 anni, residente nel quartiere Monticelli, è finito sotto processo per stalking aggravato. Secondo l'accusa avrebbe perseguitato la sua ex convivente, con comportamenti vessatori, offendendola in continuazione, molestandola, pedinandola e minacciandola. Il giovane avrebbe minacciato anche alcuni amici della ragazza, con i quali lei avrebbe dovuto troncare ogni tipo di frequentazione. Stufa delle molestie ed intesa con i genitori, la ragazza aveva deciso di lasciare Ascoli trasferendosi in America, dove vivono alcuni parenti della famiglia. La speranza era che così, con il trascorrere del tempo, il suo ex si sarebbe dimenticato di lei, ma dopo le minacce di morte si è decisa a sporgere denuncia alle forze dell'ordine. Ed ora a Senigallia, feriti due anziani di Montignano, nel violento scontro avvenuto verso le 14, sotto il cavalcavia di via Garibaldi a Marzocca, ad avere la peggio una 78enne, incastrata tra le lamiere della sua Fiat 600, che dopo l'impatto quasi frontale con l'altra auto, si è ribaltata, ad estrarla i vigili del fuoco. Nella Fiat Punto si trovava un uomo di 80 anni, anche lui ferito. E' un altro incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio nell'entroterra di Senigallia. L'auto è finita in una scarpata, grave il conducente che è stato trasportato con l'elea Bulanza nell'ospedale Torrette di Ancona. E' stato ritrovato morto questa mattina a Macerata un uomo di 75 anni, il figlio di un vicino di casa chiamato i vigili del fuoco, insospettito dalla lunga assenza dell'uomo, che non si vedeva da circa due mesi, e dal fatto che l'anziano non rispondesse al campanello. Era morto da tempo, probabilmente per un malore. Ed ora cambiamo argomento. Sono 150 i dipendenti della Roland che rischiano di perdere il lavoro a seguito della chiusura dello stabilimento di Acquaviva Picena, deciso dalla multinazionale giapponese. Il sindaco di Acquaviva, Pierpaolo Rosetti, spera in una soluzione positiva, a seguito delle ultimissime notizie. Ascoltiamo nel servizio. La speranza arriva dall'Abruzzo, precisamente da Sant'Omero. La Roland potrebbe ripartire grazie alla Proel S.P.A., una volta terminata l'attività dell'attuale gestione fissata per il 31 marzo. Un ulteriore incontro si è tenuto giovedì a Roma presso il Ministro dello Sviluppo Economico, e vi hanno partecipato tra gli altri l'assessore regionale Lucchetti, i sindacati, il liquidatore della ditta giapponese Tranchini, e il presidente della stessa Proel Sorbi. L'ipotesi vagliata è quella di acquistare la fabbrica e puntare sul ramo d'azienda della fisarmonica elettronica. Una storia percolibere e ben vista dalla Roland, ma che non restituirebbe il lavoro a tutti i dipendenti. È per questo motivo che la speranza che la Proel abbia intenzioni più estese. Sindaco, ci può aggiornare sulla questione Roland? Si sa che negli ultimi giorni dovrebbe essere pervenuta un'offerta di acquisto per l'azienda di Acquaviva. Sì, è una buona notizia. È pervenuta un interessamento concreto di un altro imprenditore, in particolare per il settore della fisarmonica, che è un settore nato e sviluppato ad Acquaviva Picena. È una buona notizia che purtroppo certamente non potrà dare una prosecuzione del lavoro a tutti i dipendenti attualmente in carico alla Roland, però certo di fronte a una chiusura generale va valutata come una buonissima base di partenza. Ha parlato per caso con i dipendenti, loro magari hanno avuto qualche impressione in questo senso? Negli ultimi giorni no, perché sono poi stati anche a Roma per firmare gli accordi, quindi non ho avuto contatti diretti. Pressioni particolari non credo, la pressione unica è ovviamente quella di mantenere sempre più posti possibili di lavoro, che è poi interesse di tutti quanti, anche dell'amministrazione comunale, perché la perdita di lavoro per le famiglie poi si traduce in un problema sociale. Stiamo lavorando per un progetto di fusione. Abbiamo posto una condizione ai sindacati. Siamo disposti a fare un processo di razionalizzazione che preveda la fusione del trasporto pubblico su gomma subito, la Sangritana dopo, a condizione che ci sia un recupero di produttività. Lo ha dichiarato il presidente della regione Abruzzo, Gianni Chiodi, rispondendo ai cronisti circa la presenza in Abruzzo di tre società di trasporto pubblico locale, la Sangritana, che opera su ferro e gomma, l'ARPA e la GTM su gomma. I sindacati si sono impegnati a concedere un confronto sulla produttività, perché abbiamo bisogno di misurarci con il mercato in prospettiva, ha sottolineato Chiodi, al fianco del ministro dei trasporti Maurizio Lupi, intervenuto a Lanciano per una visita alla Ferrovia Adriatico Sangritana SPA, azienda interamente partecipata della regione Abruzzo. Lupi nel suo intervento aveva sottolineato l'eccessivo numero di aziende di trasporto pubblico locale presente in Italia, circa 1.100. Questo non significa per i sindacati dover rinunciare a stipendio o altro, ma dare una forma di prestazione lavorativa, che ci consenta di essere competitivi nell'interesse degli abruzzesi, ha concluso Chiodi. Ed ancora in Abruzzo, il commissario del bacino Aterno Pescara, in merito alla vicenda dell'inquinamento del sito di Bussi, mette le mani avanti. Parla di eccessivi allarmismi e sull'impossibilità di bonificare l'aria. Ascoltiamo il servizio. La messa in sicurezza a Tremonti è stata terminata. Non c'è più contatto tra gli inquinanti e la falda? No, semplicemente le attività che abbiamo concordato con il Ministero dell'Ambiente sono state terminate. Era stato previsto il capping, che è stato fatto abbastanza per tempo, e poi è stato detto che sarebbe meglio fare una parancolata lungo il corso del fiume perché non ci siano penetrazioni da sotto dell'acqua. Cosa che abbiamo finito in questi giorni. Non ci siano più queste percolazioni. Garantire è una parola molto grossa. Posso assicurare che quello che è stato fatto è il massimo che si possa fare per mettere in sicurezza questo. Se non può garantire, allora cosa si deve dire alla popolazione? La popolazione può stare tranquilla nel senso che prima sui giornali di questi giorni si è parlato di acqua potabile e quello che io garantisco è che già dal 2007 l'acqua è potabile su tutti gli acquedotti pescaresi e chietini. Mi scusi se la interrompo, ma gli abruzzesi si chiedono, commissario, prima del 2007 che acqua hanno bevuto? Per tutelare anche me stesso, prima del 2007 io non c'ero. Hanno bevuto certamente acqua che era inquinata. Perché? Perché quella operazione che si faceva allora di miscelare l'acqua del giardino buona con l'acqua dei posti di Colle Sant'Angelo cattiva, diciamo fra virgolette, è chiaro che era acqua che non doveva essere bevuta, tanto che io appena l'ho saputo ho chiuso i pozzi. Un altro problema rilevante è che tutta l'area, che poi conta quattro discariche, non solo quella Tremonti, non è ancora stata completata la caratterizzazione, cioè noi ad oggi non sappiamo esattamente cosa ci sia sottoterra. Dunque, per quanto riguarda gli stabilimenti e le aree di monte degli stabilimenti, l'area 2A e 2B, la caratterizzazione è stata fatta, anche se non poi validata dal Ministero, ma è stata fatta da Inviron per Conto, di Solvay. La caratterizzazione del sito invece Tremonti, ho avuto qualche problema prima di poter avere gli accessi per procedere alla caratterizzazione, sta finendo in questi giorni l'analisi di tutti gli elementi che poi porteranno alla caratterizzazione. Ma quali ostacoli ha incontrato realmente Procura, per la caratterizzazione? Quali sono stati gli ostacoli del suo lavoro? Per la caratterizzazione? Ma a parte il fatto che la caratterizzazione serviva prevalentemente per fare la bonifica e che oggi bonifica, secondo me, non si può fare sulla Tremonti, almeno, con i soldi dei 50 milioni, come vorrebbero gli ambientalisti, non si può perché la legge ha previsto che siano fatti e utilizzati per la reindustrializzazione di bussi e sfido chiunque a dirmi che in quel sito si possa reindustrializzare, il presupposto che è sotto un'autostrada e nell'alveo di un fiume non credo che ci siano insediamenti industriali che si possano collocare lì. Il Comune di Bussi però ha delle proposte valide? Adesso sì, le stiamo discutendo, abbiamo fatto una riunione anche la settimana scorsa col sindaco di Bussi e con i miei consulenti e con i consulenti del Comune e quindi si sta procedendo però non c'era l'urgenza per me di fare la caratterizzazione del sito di Tremonti fino a quando non si arriva ad avere il sito libero per poterlo bonificare e i soldi e i soldi per poterlo fare. Si fa sempre più concreto il rischio che sulla questione Deor ad Ascoli si inneschi una vera e propria reazione a catena dopo che alcune associazioni ambientaliste scolane alla fine dello scorso anno inviarono degli esposti alla procura della Repubblica di Ascoli e alla soprintendenza facendo esplodere la polemica politica e soprattutto causando l'apertura di procedimenti penali nei confronti dei titolari dell'attività di Piazza Ringo ecco pronte altre denunce che potrebbero avere conseguenze altrettanto significative altre associazioni per la tutela ambientale delle bellezze architettoniche e cittadine sarebbero intenzionate a presentare una denuncia alla procura di Ascoli e alla soprintendenza nella quale si chiede di verificare se tutte le manifestazioni che si sono svolte negli ultimi anni abbiano avuto oppure no il parere della soprintendenza di Ancona l'iniziativa prende le mosse a seguito degli sviluppi che si sono registrati nel corso di questi mesi per quanto riguarda i gazebo di Piazza Ringo e rimaniamo ad Ascoli esposto in procura ad Ascoli dell'ex assessore Claudio Travanti contro l'amministrazione comunale e il servizio l'ex assessore Claudio Travanti presenta un esposto in procura in merito alla questione relativa alla cooperativa Scorana Paceffa io faccio politica non sono mai in tutti questi anni andato avanti con gli esposti in procura perché la politica è un'altra cosa il dialogo il confronto però come sapete sono nell'ultimo mese ho consegnato il secondo esposto perché ho ritenuto opportuno avvisare comunicare alla nostra procura territoriale alcuni fatti ritenuti oltre la politica ricorderete ricorderete la sostituzione maturata nell'affidamento dei servizi sociali presso la COSER di Porta Cappuccina passati dalla Pacefa ai Cirinei ebbene la gara vinta da quest'ultima società appare viziata da irregolarità procedurali dettagliatamente indicate da certamente speriti è stato possibile rilevare che l'amministrazione dei Cirinei è affidata a soggetti che ricoprono ruoli fondamentali nell'unità si Travanti spiegano oltre perché i Cirinei non avrebbero potuto partecipare al bando i Cirinei non avrebbero potuto partecipare perché non avevano i requisiti e quindi si sono avvarsi di un'altra figura che guarda caso è stata rappresentata dall'unità di San Benedetto del Trondo infine riferimenti a stipendi che sarebbero stati raddoppiati è stata promossa con il quasi raddoppio dello stipendio che oggi sfiora a circa 10.000 euro tale soggetto ha anche rapporti con altre persone delle partecipate del comune di Ascoli Viceno belli giovani e forti con queste qualità l'assessore Paolo Gatti lancia il suo gruppo evocando la nota poesia della spigolatrice di Sapri per presentare i 29 candidati del gruppo Futuro In 13 donne e 16 uomini che dal parco della scienza di Teramo lanciano il guanto della sfida elettorale a sostegno del sindaco uscente Maurizio Brucchi e con un video del suo discorso che l'assessore regionale ha richiamato allo spirito di squadra e alla responsabilità dei singoli nessuno scarichi la responsabilità sul compagno si gioca insieme si vince o si perde insieme tutti sono schiacciatori nessuno guardi o giudichi l'alzatore così Gatti schiera i suoi giocatori persone che provengono dal mondo della scuola delle professioni della sanità ma anche nomi noti tra i banchi di Piazza Orsini che in una sala gremita da circa 500 simpatizzanti hanno garantito il loro impegno comune per un obiettivo per un unico obiettivo la manutenzione etica e strutturale della città di Teramo a sostegno del sindaco uscente Maurizio Brucchi certificazione ottenuta ora il prossimo passaggio sarà la presentazione del candidato sindaco sarà una donna e della lista in corsa per le amministrative il prossimo 13 aprile a Nereto il Movimento 5 Stelle presenterà la squadra che correrà per il rinnovo del consiglio comunale nella stessa occasione ovviamente saranno illustrati tutti gli aspetti di natura programmatica proponiamo a Neretesi un programma che abbiamo elaborato e condiviso nel corso dei numerosi incontri fanno sapere i rappresentanti del Movimento 5 Stelle con tutti coloro che hanno partecipato alle nostre assemblee pubbliche e nostri gazebo un programma che vuole costituire un punto di partenza per una politica che sia sempre più condivisa innovativa trasparente e concreta alle prossime elezioni amministrative presenteremo una candidata a sindaco e 10 consiglieri tutti candidati ad essere portavoci dei cittadini nel consiglio comunale non intendiamo avere una poltrona da scaldare per i prossimi 5 anni né iniziare una carriera politica saremo soltanto la voce di Nereto il candidato alla regione Abruzzo per il PD Sandro Mariani parla della situazione politica del Partito Democratico in provincia e Val Vibrata e stempera le problematiche riscontrate in alcuni comuni della provincia di Teramo il servizio Sandro Mariani è tra i candidati alla regione Abruzzo per il Partito Democratico quali prospettive? Sicuramente siamo candidati con le prospettive di dare risposte a questo territorio le risposte che da tanto tempo attende l'intera provincia di Teramo ma soprattutto la regione Abruzzo e pensiamo appunto di farle grazie a di darle queste risposte grazie al presidente della regione che sicuramente sarà Luciano D'Alfonso che ha come diciamo sempre sempre noi quella marcia in più quella quella spinta maggiore a fare bene e a dare delle risposte sui territori Per quanto riguarda il Partito Democratico la spendibilità nelle liste alle amministrative anche qui in Val Vibrata ancora non ci sono nomi certi in alcuni comuni come sta lavorando il Partito Democratico? Sicuramente per quanto riguarda le realtà comunali ci sono le segreterie locali che lavorano in tal senso perché c'è l'autonomia dei circoli e poi la segreteria provinciale fa da raccordo su quelle che sono poi le decisioni delle segreterie locali Comunque si stanno appunto definendo gli ultimi aspetti naturalmente essendo questo un anno dove ci sono più livelli europei regionali e le comunali e tanti comuni al voto diventa difficile appunto coordinare il tutto e quindi i tempi si dilazionano ma si dilazionano per noi ma anche per le altre realtà politiche A Tortoreto però c'è una sorta di guerra in corso all'interno del partito A Tortoreto più che una guerra in corso c'è una scelta che questo nuovo partito democratico nella figura di Gabriele Minosse vuole dare al territorio cioè quello di un rinnovamento quello di appunto premiare quelle figure che si sono impegnate e che anche anagraficamente rappresentano un po' più le esigenze che oggi i cittadini ci chiedono nel centrodestra abruzzese si rischia la scissione lo annuncia il coordinamento regionale di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale che polemizza con gli alleati tanto con Forza Italia quanto il nuovo centrodestra di Alfano e si dice pronto ad andare da solo in una nota che segue la riunione di oggi del coordinamento regionale Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale prende atto con rammarico che l'assetto complessivo della coalizione di centrodestra ha subito un ulteriore indebolimento provocato dal nuovo centrodestra che a quanto pare si sta avviando anche in Abruzzo verso un accordo più o meno criptico con le forze del centrosinistra e con il PD in particolare traendo nella sostanza il mandato che i suoi eletti hanno ricevuto dai cittadini Forza Italia invece appare talmente confusa nel gestire l'attuale delicato momento pre-elettorale lasciando alla mercede l'incertezza e del lento logoramento proprio attorevoli esponenti potenziali candidati Il partito di Berlusconi è diventato in Abruzzo il maggiore interprete di quel teatrino della politica per cui il superamento è nato vent'anni fa dice Fratelli d'Italia parlando del partito alleato domani alle ore 18 all'hotel ambassador di Tortoreto Augusto di Stanislao entra pubblicamente nel vivo delle questioni e condivide con i cittadini un'idea di città viva e vivibile pratica e moderna in equilibrio tra storia e memoria un'occasione non solo di incontro e di confronto ma soprattutto di progetti impegni reali e concretamente realizzabili attraverso un cronoprogramma che non lascia spazio a dubbi e interpretazioni ma che dà il segno tangibile di un cambiamento da tanto troppo tempo atteso ed ora a San Benedetto approvato tra i dubbi della minoranza il progetto di trasformazione dell'ex sede del tribunale di piazza Carlo Alberto della Chiesa in sede della scuola Cursi a settembre 2015 i ragazzi andranno a scuola nel nuovo plesso ha dichiarato il sindaco Gaspari il mio entusiasmo è infinito è uno degli atti più importanti che degli amministratori in sintonia con città cittadini e studenti possano approvare lo dico con assoluta consapevolezza la crisi economica può trasformarsi anche in opportunità il comune di Grotta a Mare lancia alcune iniziative per valorizzare le bellezze ambientali e prodotti enogastronomici locali in collaborazione con Slow Food piccola pesca locale produzioni agricole e tra l'altro apertura di un orto storico per la coltivazione dell'arance simbolo storico della città vediamo il servizio di Emanuale Verdettia e Arianna Cameli il comune di Grotta a Mare ha la riscoperta di antichi sapori tradizioni e mestieri l'amministrazione grotta ammarese vara a diverse iniziative da proporre nei prossimi mesi ne abbiamo parlato con l'assessore Lorenzo Rossi abbiamo in essere alcuni progetti in primo luogo avremo due piccoli appuntamenti eventi legati alla valorizzazione della piccola pesca uno da tenersi nella tarda primavera e uno in autunno questi appuntamenti saranno finanziati dal bando del GAC Mark Sud gruppo di azione costiera che come comune in collaborazione con Slow Food abbiamo vinto saranno dei laboratori didattici rivolti anche ai turisti ma perché no anche ai cittadini residenti per conoscere la nostra piccola pesca inoltre in quell'occasione verrà stampato anche un piccolo buscolo con delucidazioni su quali sono le specie del nostro mare inoltre abbiamo in cantiere per il mese di settembre probabilmente una rassegna la prima in Italia di questo genere sulla letteratura enogastronomica si chiamerà La lingua della golla ed è stata proprio concepita dai nostri collaboratori di Slow Food sarà un appuntamento che partirà con dimensioni raccolte ma con l'ambizione di crescere e di diventare un punto di riferimento infine se non ci saranno intoppi e problemi come già avevamo accennato in passato abbiamo idea di aprire un orto storico vocato principalmente alla cultura delle arance che è tipica del territorio di Grotta Mare tant'è che è nello stemma comunale presso il Paese Alto sulla collocazione stiamo ancora vedendo ma se sarà appunto quello lo spazio destinato ma appunto se tutto andrà bene sarà una grande opportunità per il nostro territorio perché avrà una funzione da un lato didattica e conoscitiva dell'agrumicoltura e poi perché no in piccola parte anche produttiva potremmo fornire su scala ridotta agrumi anche l'attività che vorranno qualificarsi in questo senso con agrumi territoriali di Grotta Mare nell'ambito del turismo La presenza di turisti stranieri nella città di Ascoli e Piceno sono aumentati del 54,21% nel 2013 rispetto all'anno precedente un dato record per il capoluogo marchigiano è trenato dalla crescita complessiva delle presenze nella città nella provincia Picena e nella regione Marche e quanto emerso oggi nel corso di un convegno nazionale sulle opportunità di sviluppo turistico nello scenario internazionale svoltosi ad Ascoli e promosso dal Comune dalla Camera di Commercio dalla Regione dagli enti di categoria e dall'ENIT e da Ascoli ad Alba Adriatica le associazioni turistiche di Alba Adriatica Tortoreto e Martinsicuro chiedono alle istituzioni di prendere impegni chiari in vista della stagione turistica in materia di promozione del territorio e di tutela dell'ambiente albergatori e balneatori si sono affidati a delegali per compiere i vari passi chiesto anche un tavolo tecnico permanente allargato all'intera vallata i dettagli nel servizio la stagione estiva è ormai alle porte le associazioni di categoria di Alba Adriatica Tortoreto e Martinsicuro chiedono un impiegno chiaro alle istituzioni per risolvere una serie di problematiche soprattutto in tema di promozione del territorio e tutela dell'ambiente è quello che emerge in una nota diffusa dei legali delle associazioni del comprensorio Albatur Costa dei Parchi DMC Faita Fipe Associazioni Martinsicuro Vacanze OBA e albergatori di Tortoreto nel corso delle recenti assemblee infatti le varie associazioni pur fiduciose in rapide risposte istituzionali più volte promesse ma sempre disattese nel corso degli ultimi anni hanno in particolare condiviso la necessità di approntare un piano di interventi da sottoporre con urgenza alle autorità competenti riservandosi di agire nelle opportuni sedi anche giudiziarie in caso di ulteriori inerzia da parte delle stesse istituzioni in tal senso le associazioni hanno conferito mandato ai propri legali di fiducia Laura Di Filippo e Lauro Tribuiani al fine di predisporre quanto necessario all'attuazione di una serie di iniziative dal sollecitare l'adozione da parte degli enti e delle aziende di tutti gli atti e provvedimenti necessari per assicurare una costante ed efficace manutenzione degli impianti di depurazione per gli operatori infatti diventa fondamentale garantire gli impegni di spesa necessari per la tutela delle acque e dell'ambiente sotto questo profilo per le associazioni turistiche e balneari appare non procrastinabile la convocazione di una conferenza di servizio per l'analisi e l'attuazione di soluzioni condivise che poi consentano di superare una serie di criticità che si sono manifestate nel recente passato gli operatori in poche parole chiedono confermezza all'istituzione di un tavolo tecnico permanente allargato all'intera vallata per affrontare e risolvere i problemi dell'ambiente nel quale le stesse associazioni possano svolgere un ruolo di impulso e di proposta in vista della riapertura imminente delle attività balneari l'ITB Italia ha organizzato il 3 aprile alle ore 16 e 30 un incontro presso il ristorante da Federico per esaminare le varie tematiche del settore si parlerà anche della raccolta firme previste per il 25 il 26 e il 27 aprile a sostegno della denuncia esposto alla magistratura promossa dall'associazione saranno affrontate le questioni legate alla tares e il relativo ricorso presentato contro gli aumenti dell'anno passato la polizia delle spiagge e il degrado sempre più evidente di molte zone turistiche saranno illustrati corsi di formazione professionali promosse dall'ITB Italia e provincia di Ascoli Piceno finalizzati ad aggiornare gli operatori turistici balneari per metterli in condizioni che l'offerta turistica della riviera sia legata a logiche di benessere sicurezza e prevenzione in modo da favorire il turismo soprattutto delle famiglie e delle fasce più deboli quali bambini e anziani valorizzando le peculiarità che hanno fatto crescere negli anni passati l'offerta turistica locale infine si discuterà della vigilanza norturna estiva con l'approvazione del decalogo per la regolamentazione dell'intrattenimento serale e estivo e saranno proposte le iniziative e le manifestazioni per arricchire l'estate 2014 tra cui la Piceno Pass e la Blue Card ed ora a Roseto i giorni scorsi il sindaco di Roseto Enio Pavone ha ricevuto una delegazione del comitato contro la violenza della quiete pubblica rappresentato dal presidente Sofia Di Giuseppe e da altri membri dello stesso che hanno illustrato al sindaco una serie di problematiche relative alla quiete pubblica che riguardano diverse zone del lungomare cittadino il sindaco ha preso atto delle loro considerazioni ed ascoltato le proposte del comitato ribadendo però di aver firmato nel 2011 un'ordinanza sindacale la numero 78 che disponeva la possibilità di fare musica fino alle 3 di mattina ma sempre nel rispetto delle norme in materia acustica e di pubblica sicurezza Pavone ha voluto però rassicurare i membri del comitato e in vista dell'estate verrà organizzato un incontro con i balneatori e i gestori di pubblici esercizi per trovare tutti assieme una mediazione che vada incontro alle esigenze di tutte le parti coinvolte il sindaco ha anche incontrato un comitato cittadino che ha esposto problematiche simili inerenti sempre la quiete pubblica questa volta però nelle zone centrali di via Latini e piazza Dante anche in questo caso Pavone si è impegnato a intervenire coinvolgendo le forze dell'ordine per cercare di risolvere la problematica sollevata dalla cittadinanza nei confronti di alcuni gestori di locali e cambiamo argomento rivendico il ruolo di proposta da parte del governo regionale nell'ambito della nuova programmazione dei fondi comunitari lo ha detto a pescare il presidente della regione Gianni Chiodi a conclusione del workshop gli aspetti territoriali della programmazione unitaria regionale 2014-2020 al convegno sono intervenuti tra gli altri anche il vice presidente della regione Alfredo Castiglione e il direttore degli affari della presidenza Antonio Sorgi il servizio direttore Sorgi con il progetto Status parliamo di agende urbane integrate e sostenibili in sostanza? il progetto è un progetto di cooperazione territoriale dove la regione Abruzzo è partner e utilizziamo questo strumento questo progetto a quale partecipiamo per avviare attività di sviluppo urbano e territoriale sostenibile come veicolo appunto per quanto riguarda la condivisione e la partecipazione del territorio abbiamo fatto un precedente evento in provincia di Teramo per quanto riguarda la presentazione di un progetto sul contratto di fiume che si sta sviluppando lungo il Tordino in questo caso invece è l'occasione per discutere delle linee guida della programmazione unitaria che sono state approvate di recente dalla regione Abruzzo e conseguentemente poi le ricadute sugli aspetti territoriali in questo caso le linee guida che sono state approvate dalle quali poi si declineranno i vari i piani operativi regionali che inizieranno tra poco a riavviare i tavoli partenariari hanno quattro elementi cardini sulla quale si sviluppano sul territorio uno sono le aree urbane l'altro le aree interne l'altro i contratti di fiume e l'altro ancora le aree di crisi quindi su questi quattro elementi oggi si svilupperà un primo dibattito una presentazione poi un primo confronto con il partenariato in questo caso molto ristretto ma poi sarà allergato nella definizione dei quattro porri nella notte è venuto a mancare Domenico Mucionese storico editore televisivo dell'emittente comunitaria TV Atri dell'associazione Ollus Carta ex imprenditore di successo l'ingegnere Mucionese ha dedicato oltre 30 anni della sua vita a favore dell'emittenza televisiva privata della quale si innamorò da subito e per la quale è vissuto fino agli ultimissimi giorni della sua vita a tutta la famiglia le condoglianze di tutta la redazione di Super J una rete di iniziative capace di esaltare le ricchezze già esistenti nella provincia di Ascoli si chiama Piceno Senso Creativo e attraverso i prodotti enogastronomici si ripromette di far scoprire a residenti e turisti un nuovo modo di vivere il territorio dall'anice verde di Castignano al tartufo di Force dai secondi piatti di Acquaviva all'olio di Ripatransone e Monte Rubiano alle mele di Monte di Nove vediamo il servizio di Cristiano Pietro Paolo e Vincenzo Ingiulla Ci puoi illustrare i punti chiave di questa iniziativa Piceno Senso Creativo Sì, questo è un progetto finanziato dal GAL e realizzato dal Zandart for Job che ha vinto appunto un bando con un progetto un bando diffuso dal GAL con questo progetto che si chiama Piceno Senso Creativo è un progetto che sostanzialmente mette in rete e evidenzia a livello nazionale alcune peculiarità di questo territorio partendo dal giocimento enogastronomico di alcuni prodotti molto importanti come per esempio l'anice verde di Castignano oppure il tartufo estivo di Force l'olio a Monte Rubiano e Ripatransone la mela rosa dei Sibilini a Monte di Nove e tutto il patrimonio della cucina rurale che si condensa in un evento chiamato secondo a nessuno che si fa ad Acquaviva a Piceno è un po' diciamo un progetto che vuole mettere i beni diciamo agroalimentari al pari perché questo di fatto sono dei beni culturali e promuovendo diciamo questo territorio a 360 gradi sulla stampa nazionale attraverso iniziative che si faranno il loco perché questi che ho citato sono tutti i festival che si faranno il loco ma che parteciperanno ad eventi diciamo come Fritto Misto parteciperanno con uno stand dove ci saranno degustazioni dimostrazioni e ripetizione per il grande pubblico perché ovviamente cerchiamo delle situazioni come Fritto Misto dove ci sono 70-80 mila persone torna torna l'ora della terra la più grande manifestazione mondiale per il risparmio energetico e contro i cambiamenti climatici l'ora della terra è la grande mobilitazione globale del WWF che partendo dal gesto simbolico di spegnere le luci per un'ora coinvolge cittadini istituzioni e imprese in azioni concrete per dare al mondo un futuro sostenibile e vincere la sfida del cambiamento climatico da un mondo basato sui combustibili fossili è necessario approdare ad uno fondato sul risparmio efficienza e rinnovabili in tutto il mondo alle ore 20 e 30 si spegneranno i monumenti più famosi come ad esempio la Torre Eiffel a Teramo l'appuntamento è alle ore 20 e 30 in Piazza Martiri della Libertà si spegnerà il Duomo e poi si partirà per un'edizione speciale di Teramo Cammina una passeggiata notturna per le vie della città e conto alla rovescia per il ritorno dell'ora legale che entrerà ufficialmente in vigore alle 2 di domenica 30 marzo lancette un'ora avanti da questa notte certo dormiremo un'ora in meno ma quell'ora di luce guadagnata influirà positivamente sull'umore incubito dalle buie giornate invernali e addirittura secondo uno studio pubblicato sulla rivista Environmental Health avrebbe la capacità di renderci più recettivi e intelligenti la maggior parte dei dispositivi elettronici come telefoni cellulari e computer avranno già provveduto autonomamente ad aggiornare l'orario importante sarà invece ricordarsi di spostare in avanti di 60 minuti le lancette di tutti gli orologi di casa in modo da ridurre al minimo il tipico senso di smarrimento che accompagna il risveglio i protagonisti del film in cima alla classifica del box office prodotto da Tau2film amici come noi Pio e Amedeo nonché conosciutissimo duo delle Ieni gli ultra dei VIP incontreranno i loro fan domani alle 19.30 presso il multiplex Arcadispoltore a Pescara i due comici pugliesi faranno tappa alla multisala per raccontare al pubblico il successo cinematografico e le incursioni nei panni delle Iene il ciclo di incontri sulla cultura e sull'etica sportiva programmato dal centro sportivo italiano per i 70 anni della fondazione si è arricchito di un nuovo appuntamento sempre in un istituto scolastico teramano dopo quello con l'isabetta preziosa del 22 marzo scorso al Delphico oggi è stata la volta del liceo scientifico Albert Einstein ad ospitare il dialogo dal titolo protagonisti del cambiamento tra il pluricampione di ginnastica artistica Igor Cassina e il presidente del CSI Angelo De Marcellis ovviamente la platea è stata quella degli studenti Igor Cassina conosce bene il CSI e diffonde ai giovani presenti in sala questo messaggio bisogna avere rispetto dignità ed agire con umiltà e lealtà sportiva con i propri limiti ma è barare fa capire che il doping è veleno e siccome sono ambasciatore dello sport ribadisco che il rispetto e lealtà fanno parte del curriculum di ogni atleta l'olimpionico sarà presente a Roma il 7 giugno prossimo all'udienza con Papa Francesco ho ricevuto l'invito dal presidente nazionale del CSI Massimo Achini ci sarò in piazza San Pietro perché questo Papa mi fa comprendere il modo di avvicinarsi alla fede ebbene con questa notizia termina il nostro TG grazie per l'attenzione e buona serata a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.